Ma per una volta qualcuno gli ha rubato la scena. Gli occhi erano tutti per Yumi, il primo robot direttore d'orchestra mai visto su un palco. È stata questa macchina, progettata dalla Svizzera Hub, la vedette del concerto di beneficenza che ha chiuso la prima edizione del Festival Internazionale della Robotica di Pisa. Questo prototipo a due braccia meccaniche, originariamente specializzato nell'assemblaggio di piccoli pezzi, ha diretto il celebre tenore italiano e la soprano Maria Luigia Borsi, oltre all'orchestra filarmonica di Lucca, sulle note del Rigoletto Giuseppe Verdi e di altre celebri aria. Per imparare a usare la bacchetta Yumi ha seguito a dirigere dei singoli brani, certo, ma non sa improvvisare né interagire con i musicisti. Insomma, i direttori d'orchestra in carne ed ossa possono dormire sonni tranquilli, come ha spiegato il...